Istituire un tavolo per la risoluzione dei problemi e disagi dovuti alla chiusura dell'Istituto Manzoni di Pagani è la richiesta del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Luigi Cirillo in visita a Pagani per raccogliere informazioni e verificare i disagi che la vicenda ha recato ai piccoli alunni, alle famiglie e agli insegnanti. Cirillo ha annunciato un'audizione presso la Commissione Istruzione del Consiglio regionale della Campania. Da ottobre scorso l'Istituto Manzoni risulta chiuso a causa di problemi strutturali per la non idoneità statica. Cirillo ha anche visitato le aule provvisorie presso l'auditorium Sant'Alfonso constatando alcune gravi criticità come l'ascensore Guasto che obbliga i piccoli alunni ad accedere ai locali addibiti temporaneamente a classi attraverso una scomoda rampa di scale nei fatti una potenziale barriera architettonica. Il perdurare dell'inagibilità della sede storica dell'Istituto Manzoni, fa notare il consigliere regionale, ha fatto registrare per il nuovo anno scolastico un sensibile decremento delle iscrizioni. Sarebbe davvero grave per la storia di questo importante istituto di Pagani vedere progressivamente disperso un patrimonio tanto caro a chi si è formato in quella scuola. Come Movimento 5 Stelle ci siamo subito attivati con una richiesta di audizione, spiega Cirillo, affinché sia apposta all'attenzione della regione questa difficile situazione che sta vivendo la comunità di Pagani. La nostra priorità è garantire e tutelare soprattutto il diritto allo studio dei bambini in ambienti sicuri e adeguati alla formazione. Cercheremo di capire cosa occorre per far riaprire l'Istituto Manzoni, conclude Cirillo. Aspichiamo che al più presto i piccoli alunni dell'infanzia e degli elementari possano finalmente frequentare le lezioni in un'unica struttura fruibile e sicura. E intanto si fa largo tra qualche esponente dell'amministrazione comunale una nuova soluzione per gli studenti del primo circolo didattico che prevede il trasferimento alla Manzoni degli uffici comunali e degli studenti presso Palazzo San Carlo che rimarrebbe una sede di rappresentanza in attesa della costruzione di una nuova scuola in via della Repubblica. Grazie. 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 Grazie.